Lei si rende conto che sta dicendo delle cose per cui delle persone potrebbero andare anche in galera? Io mi auguro che le autorità preposte facciano il proprio dovere, se ci stanno persone che hanno sbagliato paghino e soprattutto mi auguro che se gli amministratori della Melito Multifizio, così come quelli comunali, hanno commesso determinate errori, ne paghino nelle sedi competenti. È un vero e proprio fiume in piena il consigliere di opposizione Luciano Mottola di Melito. A suo dire, in quella città esisteva un sistema multiservizi Melito, ovvero una serie di atti illegittimi che hanno permesso alla partecipata del Comune di accumulare debiti per 7 milioni di euro. I debiti ammontavano a 7 milioni e mezzo di euro, ma non soltanto. Oltre ai debiti c'erano anche dei falsi crediti, crediti mai riconosciuti, poi tra l'altro in situazione abbastanza particolare dallo stesso ente, infatti, perché secondo la Melito Multiservizi il Comune di Melito risultava creditore verso la società per 3 milioni e 7. Questi crediti non sono mai stati riscontrati. La maggior parte dei debiti, però, e questa è la cosa più strana ed allarmante, erano maturati nei confronti dell'erario, 5 milioni e 200 mila euro. In sostanza, in società, si trattenevano quelle che erano le ritenute IRPEF comunali e regionali ed altre vocine in busta paga, ma non venivano mai versate. Documenti alla mano. Il consigliere afferma che i DURC che venivano presentati per i pagamenti erano illegittimi perché forniti da altre stazioni appaltanti e che i pagamenti venivano effettuati perché vedono delle conoscenze all'interno di Equitalia. La Melito Multiservizi, per ammissione e dichiarazione della vice sindaco Marina Mastropasco che in commissione sostituiva il sindaco Venanzio Carpentieri, aveva delle persone all'interno di Equitalia che permettevano un giochetto di cui purtroppo pagheranno le spese i melitesi. In particolare, cosa facevano? La Melito Multiservizi era fortemente indebitata con Equitalia, chiedeva un piano di rateizzo, pagava la prima rata. Una volta pagata la prima rata, si recava nei luoghi dove aveva apparti, in questo caso al Comune di Quarto. Il Comune di Quarto chiedeva il DURC. Il DURC, visto che la Melito Multiservizi aveva pagato da qualche giorno la rata risultava positiva, attraverso questo DURC, che ha una validità di 120 giorni, la Melito Multiservizi si faceva liquidare, sia dal Comune di Quarto ma in particolar modo dal Comune di Melito, per 120 giorni. Insomma, una situazione esplosiva che è stata denunciata in Consiglio Comunale e che sicuramente non si chiuderà qua. E quando al Consigliere gli si domanda, secondo lui, di chi sono le responsabilità, ci risponde così. In quanto la gestione della Melito Multiservizi dal 2011 al 2015 ha come protagonista il sindaco di Melito, Venanzio Carpentieri, che tra l'altro è anche il segretario provinciale del Partito Democratico, ed il presidente della Melito Multiservizi, di nomina sindacale, l'avvocato Massimo Carrano, attuale presidente della Commissione di Garanzia del Partito Democratico, Commissione di Garanzia Provinciale. Questo mi fa molto pensare, mi fa porre molte domande, mi fa forse difendere qualcuno, devono forse tutelare qualcuno, cosa c'è realmente dietro questo incubo chiamato Melito Multiservizi?